Questo è un 40x35 di Fuchi Mare e Fuchi Franco, è un Fuchi, è un Fuchi, è i fratelli Fuchi. Questo quadro contiene quegli elementi pittorici che ricordano molto da vicino le prime opere di Cagnola. Il primissimo Cagnola, ricorda il Cagnola come non mai, c'è tutta una ricerca del linguaggio. Sono 30 anni che i fratelli Fuchi stanno a cercare questo linguaggio. Questa ricerca del linguaggio, vedete, in parte ha trovato la sua soluzione. Lui era molto bravo con lei, ce ne sono tante. Possiamo farlo vedere? Ci rendiamo conto di quanto è straordinaria questa opera? La puoi vedere? Sembra una foto, è tutta pittura, è un'opera irrinunciabile. Opera irrinunciabile dei fratelli Fuchi, Mario Fuchi e Piero Fuchi. Mario e Piero, Mario ma anche Piero, Mario ma anche Piero è un fratello, è il fratello di Mario. I Fuchi, Fuchi è uno ma Fuchi è anche Piero, perché questo l'hanno fatto insieme. Perché chi è bravo con le I e chi invece se la cava meglio con i meno. Perché abbiamo anche moltissimi meno. Io metto dritto. No, è per dritto, è per dritto. Vai via, scusate. Confermato signor Fabio, 50 mila. Bravo Fabio, bravo, porto via.